Grazie a tutti. Una quantità di rifiuti pari a quella che Pordenone e i suoi abitanti producono in un intero mese, 400 tonnellate. Gestirli nel modo più corretto è la sfida, la sfida accolta da Conai con i suoi consorsi di filiera e da Gea ed è stata presentata in conferenza stampa in comune. L'obiettivo è fare in modo che almeno la metà dei rifiuti venga raccolta in modo differenziato. Fondamentale il lavoro di squadra di Gea con Conai e i sei consorsi di filiera, Corepla, Coreve, Rilegno, Ricrea, Comieco e Cial. I Conai e i consorsi ci hanno supportato per l'attività di comunicazione, ci hanno validato sul modello di raccolta che abbiamo messo in atto e soprattutto sono stati elementi fondamentali di riferimento poi per anche valutare l'avvio a recupero dei materiali. E grande entusiasmo è stato dimostrato proprio dai protagonisti della manifestazione, le penne nere. Il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini parla addirittura di una adunata riciclona. Ogni anno si cerca di cambiare e di migliorare. Qui a Pordenone abbiamo accettato la sfida di questa bellissima città per cercare di rendere questa adunata una adunata riciclona. Soddisfatto anche il sindaco della città dal momento che l'evento di Pordenone sarà preso in considerazione per la gestione dei rifiuti di Expo 2015. Alla fine si è capito che questo è un qualche cosa che si ripete anche in altri eventi molto più grandi dei nostri, ma certo può essere un modello con cui confrontarsi. L'Expo di Milano ha dimostrato questo interesse. E poi ci sono loro, gli angeli del riciclo. Cento ragazzi e ragazze appositamente formati con il compito di cambiare i sacchi dei contenitori e di raccogliere rifiuti, portandoli nei luoghi stabiliti dove i mezzi di GEA provvederanno a ritirarli. La cosa bella di questa adunata è appunto coinvolgere noi giovani al 100%, quindi attivamente. E GEA ha insomma proposto questo tipo di impegno che ho accolto un po' per partecipare attivamente alla adunata, per partecipare anche alla vita della città. È un evento più unico che è raro e poi anche per motivi diciamo un po' così familiari in quanto sono erede di alpini e quindi c'è anche il fattore effettivo. Bene, ora che abbiamo conosciuto tutti i protagonisti di questa sfida, che i giochi abbiano inizio! Grazie a tutti!